Alvia la terza dose di vaccino per operatori sanitari e sociosanitari. Su disposizione dell'unità di crisi regionale per l'emergenza Covid-19 parte la somministrazione della terza dose del vaccino anche per gli operatori sanitari, prioritariamente per gli ultra-sessantenni e opportatori di patologie. Come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario e dopo almeno sei mesi della seconda dose gli addetti possono recarsi presso tutti i punti vaccinali di popolazione ed ospedalieri dell'ASL Napoli 3 Sud più vicini al luogo di lavoro per l'effettuazione della terza dose. Bisogna recarsi al punto vaccinale con tutta la documentazione inerente la prima e la seconda dose con documento di riconoscimento, tessera sanitaria e Green Pass. Tutte le informazioni sono visibili sull'home page del sito www.aslanapoli3sud.it. L'azienda sanitaria sta compiendo un ulteriore sforzo organizzativo per l'inoculazione delle terze dosi ai soggetti immunocompromessi, agli ultra-ottantenni, agli ospiti delle RSA, delle case di riposo e case albergo per anziani.